Come sempre noi valutiamo il comportamento del governo in generale delle istituzioni dai fatti e così come ho espresso grande apprezzamento in occasione della vise del Presidente del Consiglio per quello che ha detto e ha fatto, io sono fiducioso di quello che accadrà, credo, il 29, poi non so se sarà venerdì o giovedì non lo sblocca Italia, poi giudicheremo. Ci attendiamo un finanziamento importante per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, quindi a quel punto potremmo dire di aver chiuso il finanziamento per la linea 1. Ci attendiamo un'altra opera sulla quale anche abbiamo lavorato e che unirà le città di Napoli e Bari, che è l'alta velocità del treno, quindi si lavora, ho sentito l'altro giorno il Sindaco di Bari perché credo che questa sia un'occasione importantissima per il Sud e per unire ancora di più le città significative del Sud. Ci attendiamo i risultati che il Presidente si è impegnato a fare per Bagnoli, non so se sarà nello sblocca Italia del 29, ma comunque ho avuto contatti ai massimi livelli col Governo anche in questi giorni e stanno lavorando bene, poi ci attendiamo tantissime altre cose significative e l'obiettivo che ho lanciato e che mi pare che sia stato anche colto, quello delle vele di Scampia con l'abbattimento e la riqualificazione. Mi sembra che si è cambiato passo verso, come dice il Presidente del Consiglio, sul Napoli noi l'abbiamo fatto da tempo, il Governo se ne è accorto, siamo credibili e in questo modo si può andare lontano. Napoli-Est è fuori dalla partita, ma adesso la partita la gioca la città metropolitana. Tra un poco in Campania se ne accorgeranno in tanti che le parole decisive su tanti nodi strategici come i rifiuti lo diranno i componenti del Consiglio metropolitano che saranno eletti il 12 ottobre il sindaco della città metropolitana che è il sindaco di Napoli, sul tema dei rifiuti il protagonismo sarà soprattutto la città metropolitana come sui trasporti e su tante altre cose, quindi cambia la geografia politica della Campania e di tutti i luoghi del Paese dove ci sono le città metropolitane.